Maceratese e Pollenza sotto shock per la morte di Paolo Ruffini, titolare dell'omonimo bar. È stata la moglie a lanciare per prima l'allarme, non vedendolo arrivare al lavoro intorno alle 10 di sabato mattina. Il 53 anni sarebbe stato colpito da un malore mentre dormiva, che non gli ha lasciato scampo. La mattina prima della tragedia aveva ricevuto la seconda dose di vaccino e ora la famiglia vuole vederci chiaro. Sarà l'atopsia a chiarire le cause del decesso prima che vengano fissati i funerali dell'uomo. La salma del 53 anni si trova ora nell'obitorio dell'ospedale di Macerata in attesa del riscontro diagnostico chiamato ad accertare se vi sia un nesso causale tra la vaccinazione e l'improvvisa morte. Sua moglie lo aveva lasciato a letto a riposare ed era scesa di buon'ora ad aprire il bar. Poi la madre di Ruffini, preoccupata dal ritardo del figlio, è andata in casa trovandolo ormai senza vita nella sua stanza. Da quando si apprende la vittima non soffriva di particolari patologie. Un fulmine a Celsiareno che lascia nel dolore la moglie Laura, le figlie Tatiana, Ramona ed Erika, i genitori Clara ed Egidio, le sorelle Alba, Sibilla e Fabiola, ma anche tanti clienti del bar di Pollenza Stazione che erano affezionati a Paolo. Una notizia tristissima, un colpo al cuore. È tanto che non ci vediamo ma ti ricordo con affetto, una persona sempre gentile. È questo uno dei tanti messaggi di cordoglio postati su Facebook.